Stamattina abbiamo avuto un grosso problema perché senza nessun avviso ci è venuta a mancare la luce e quindi almeno un avviso per dirci che stamattina dalle otto e mezza fino a oggi alle due non c'era la luce solo che noi non abbiamo saputo niente. Sono andato ai distributori della luce e mi hanno detto che praticamente l'unico caseggiato che è attaccato ad un cavo di via Fratti perché i lavori li stanno facendo in via Fratti e non sapevano darmi un orario per la riattivazione della luce. Per chi come lei è una gelateria, immagino la conservazione del prodotto è molto complicata. Sì, sicuramente sì perché poi i frigoriferi quando cominciano a perdere un pochino di acqua va sopra il prodotto e poi butti via tutto, non è più recuperabile. Se consideriamo che siamo sotto il periodo natalizio e una pasta fresca lavora proprio in pieno e per noi è stato un disagio grosso quello della mancanza di luce questa mattina che è andata via tutta in una volta. Tutta la palazzina dove lavoriamo e quindi siamo trovati tutti senza luce inaspettatamente perché non lo sapevamo e senza nessun avviso, senza niente quindi ci ha creato un disagio grosso. Io ho mandato a casa le dipendenti perché senza luce non possiamo né aprire il frigo, niente e quindi ci siamo trovati molto molto male insomma, senza nessuno poi che ci desse una spiegazione di tutto. Non siamo stati avvisati, solitamente ci si mette un foglio, ci mettono un foglio alla porta e questa volta no, i miei colleghi hanno chiamato e è stato detto che ci hanno avvisato invece no, non c'è un foglio anche nel mio bar, di solito avvisano con un foglio e magari a me era volato, poi ci siamo sentiti tutti, nessuno di noi è stato avvisato. Già è dura proprio il periodo, io ho appena riaperto, sono stata chiusa quasi tre settimane però questo adesso, in più dai, magari se ci avvisavano prendevamo meno pezzi insomma. La gente se ne va, poi oggi è un freddo, il secondo giorno è gelato, la gente, il caffè, niente, io ho perso. Poi un mio collega mi ha detto che i lavori sono qua in Via Fratti, noi siamo attaccati a quella linea e quindi loro non sapevano che Via Giolitti, la linea nostra, di tutti i nostri uffici, i nostri locali sono attaccati a questa linea, penso anche gli operatori dell'Enel dovevano saperlo questo. Per fortuna sono quasi le 11 e sembra che la situazione si sia normalizzata e speriamo che possiamo progredire la giornata ripristinando tutti gli appuntamenti che abbiamo disdetto e grazie a Dio e alle clienti che sono rimaste fortunatamente di riuscire a mandare via con i capelli asciutti.